Allora, il corso è stato emozionante, mi ha dato molto sull'aspetto interiore, dove nella pratica, lasciandomi andare ovviamente, quindi non vivendo alcune aspettative, mi ha portato a, usiamo i termini che sono stati usati, appropriati, sciogliere dei nodi che ancora erano, diciamo, ancora fermi lì. Quindi addirittura anche una parte fisica che abbiamo sperimentato, quindi è stato anche un laboratorio di sperimenti e devo dire che è stato sorprendente, mi ha portato a un livello sicuramente più elevato, anche sento in questo momento maggiore serenità, mi sento ripulito e quindi l'ho trovato, ripeto, proprio perché non ho avuto aspettative, ma con un certo ascolto, con attenzione e lasciandomi, soprattutto affidandomi, lasciandomi trasportare, mi ha portato a entrare proprio nel vivo della Divina Connection, che credo che sia questo il principio. E in questo momento devo dire che mi sto bene, ho senso uno stato di leggerezza, di pulizia e di piacere, ecco. Quindi ho ottenuto il risultato. Beh, lo consiglio a tutti perché se qualcuno volesse, in modo semplice, quindi non attraverso tecnicismi, attraverso, diciamo, cose sofisticate, vivere, emozionarsi in maniera giocosa, in maniera leggera, condividendo anche, mettendosi in gioco, in modo, ripeto, semplice, può avere l'opportunità sicuramente di tornare diverso, in modo positivo, alleggerito e con un altro livello di consapevolezza, pronto per mettersi in gioco a un livello superiore. Sicuramente, come ho accennato, ho potuto, innanzitutto, mi sono permesso di imparare di più, mi sono permesso di scoprirmi di più, ma di sciogliere, specialmente nelle meditazioni, ho potuto sciogliere dei nodi importanti legati, poteva essere, nel mio caso specifico, alla rabbia o come al denaro, ho delle paure, anche inconsce, e come appunto ho accennato prima, mi sono ritrovato a essere più leggero, più sciolto, e addirittura anche a dimenticarmi di queste paure, quindi diciamo che il successo è stato proprio questo, dimenticarmi anche di averle pensate, è stato sorprendente. Ciao Patrizia, grazie ancora, voglio solo di vederti presto, con un abbraccio, e sicuramente per essere anch'io un testimone di questa bellissima esperienza. Grazie a tutti.